Ciao a tutti, come gestire una conversazione da introverso o da introversa? Ci sono persone che, sentendosi introverse, non riescono a gestire una conversazione. Hanno difficoltà a gestire un dialogo, hanno difficoltà a gestire una relazione, insomma. In realtà non è così difficile, anzi è abbastanza semplice fare questo. Per farlo è sufficiente, diciamo, fare una cosa molto semplice, utilizzare un ricalco. Quindi non è importante avere delle idee su cosa dire, anche perché poi gli introversi possono avere delle idee, ma nel momento buono queste idee vengono meno, si sentono bloccati, non hanno la capacità, la forza di tirare fuori, perché magari sono anche timidi, oltre che introversi. Quindi la cosa più semplice da fare è quella di saper fare una domanda, una domanda qualunque. Tu fai una domanda aperta, che Dio ha una risposta aperta, non lo so, cos'è che ti piace fare d'estate. E lui ti dice, o lei ti dice, ah, d'estate mi piace tanto andare al mare in Sardegna. E tu da lì ti agganci, riprendi le ultime parole. Non importa neanche che stai a sentire quello che dice la persona, davvero, non importa che stai a sentire. Riprendi le ultime parole e vai ad aggiungere altre frasi. Ah, ti piace andare al mare in Sardegna. E com'è che hai deciso di andare al mare proprio in Sardegna, ad esempio, rispetto alla Sicilia? Perché anche la Sicilia è un bel mare. Faccio un esempio, butto lì una frase del genere. E lui, o lei, dirà qualche cosa. Alla fine io prendo sempre le ultime due, tre parole. Un ultimo concetto che questa persona ha espresso, lo riformulo e aggiungo qualcosa. Bisogna allenarsi un po', ma se si riesce a fare questo si potrà portare avanti una conversazione senza neanche prestare attenzione a quello che la persona dice. E potremmo pilotare questa conversazione poi su dei temi che a noi possono interessare, possono essere utili. Il modo migliore è portare alla conversazione andando a testare, poi per dare emozioni, le aree potenzialmente distoniche della persona. Cioè le aree dove ci possono essere delle emozioni compresse. Perché se andremo a sollecitare queste emozioni compresse, genereremo istantaneamente emozione. E quindi coinvolgimento. E quindi anche da introversi riusciremo a dare emotività. Quali sono le aree che dovremmo andare a testare? Bene, sono i rapporti con la famiglia d'origine, i rapporti con la famiglia acquisita, i rapporti sentimentali, affettivi e passionali, la realizzazione nel lavoro, nel danaro, nella professione e l'autorealizzazione. Cioè la realizzazione verso se stessi. Ecco, andando a toccare queste aree, dove vedremo che la persona si infervorerà, dove vedremo che metterà maggior pathos, metterà maggior attenzione, significa che lì c'è un'emozione compressa e allora noi andando abilmente a sfruttare questi canali potremo ottenere degli ottimi risultati. Ottimi risultati espressi in termini di coinvolgimento. E quindi quella persona inizierà a coinvolgersi. Ma comunque in questo modo potremo portare avanti una conversazione senza doverci inventare nulla. Quindi anche da introversi. E questo è veramente una tecnica molto utile, molto semplice, alla portata di tutti, ma davvero molto efficace. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!